Ora la lettura, Focus PICT è, cosa sapere sulla finanza comportamentale per investire oggi share sommario 01 fondi di investimento, come funzionano e quali sono i loro vantaggi 02 finanza comportamentale, 5 errori da evitare 03 guida ai piani di accumulo del capitale PAC 04 pianificare con la previdenza complementare, ecco i vantaggi 05 che tipologia di investitore 6 ecco caratteristiche e obiettivi 06 PAC, uno strumento di integrazione previdenziale 07 liquidità sul conto corrente, quali problemi comporta 08 una vita più lunga, cosa comporta il rischio di longevità 09 l'educazione finanziaria in Italia, perché è importante e quali sono le iniziative in campo, 10 banche corrispondenti, cosa sono e qual è il loro ruolo 11 il concetto di rischio spiegato in 3 minuti 12 diversificazione, qual è il suo ruolo e perché è importante per gli investimenti, 13 cos'è un cigno nero, un focus sul covid-19, 14 la sicurezza di investire, in SICA 15 educazione finanziaria, da dove partire, 16 perché investire e cosa si rischia, a non farlo, 17 cosa fa un asset manager, 18 cosa sono i bias comportamentali, 19 i principali indici finanziari sommario 01 fondi di investimento, come funzionano e quali sono i loro vantaggi vai alla sezione 02 finanza comportamentale, 5 errori da evitare vai alla sezione 03 guida ai piani di accumulo del capitale, PAC, vai alla sezione 04 pianificare con la previdenza complementare, ecco i vantaggi vai alla sezione 05 che tipologia di investitore 6 ecco caratteristiche e obiettivi vai alla sezione 06 PAC, uno strumento di integrazione previdenziale vai alla sezione 07 liquidità, sul conto corrente, quali problemi comporta vai alla sezione 08 una vita più lunga, cosa comporta il rischio di longevità vai alla sezione 09 l'educazione finanziaria in Italia, perché è importante e quali sono le iniziative in campo vai alla sezione 10 banche corrispondenti, cosa sono e qual è il loro ruolo vai alla sezione 11 il concetto di rischio spiegato in 3 minuti vai alla sezione 12 diversificazione, qual è il suo ruolo e perché è importante per gli investimenti, vai alla sezione 13 cos'è un cigno nero, un focus sul covid-19 vai alla sezione 14 la sicurezza di investire in SICA vai alla sezione 15 educazione finanziaria, da dove partire, vai alla sezione 16 perché investire e cosa si rischia, a non farlo, vai alla sezione 17 cosa fa un asset manager, vai alla sezione 18 cosa sono i bias comportamentali, vai alla sezione 19 i principali indici finanziari arrivai alla sezione 01 fondi di investimento, come funzionano e quali sono i loro vantaggi i fondi comuni sono fondi di investimento a cui una pluralità di persone affida la gestione dei propri risparmi per il tramite di soggetti abilitati, il loro utilizzo permette a chiunque di diversificare in modo efficace il proprio portafoglio, mitigando in questo modo il rischio complessivo, il fondo si caratterizza per una gestione a monte, in cui il sottoscrittore non impartisce alla società di gestione istruzioni vincolanti, su come impiegare il patrimonio male da un'ampia delega di gestione, scopri nel video il funzionamento e tutti i vantaggi dei fondi di investimento, focus picte, gabriele oriolo, sales director picte emitalia 02 finanza comportamentale, 5 errori da evitare la finanza comportamentale, è un misto di economia, finanza e psicologia, questa scienza parte dalla tesi secondo la quale le persone non sono completamente razionali e i mercati non sono del tutto efficienti, è all'obiettivo di indagare gli schemi dei comportamenti sociali ed individuali, tra gli errori più comuni che alterano i risultati dei nostri investimenti ci sono errori emotivi e cognitivi, scopri tutti i dettagli nel video, focus picte, cristian coletto, sales director picte emitalia 03 guida ai piani di accumulo del capitale, PAC, l'obiettivo degli investitori è minimizzare i rischi imprevedibili cavalcando le opportunità evidenti, in uno scenario di incertezza, la componente emotiva dell'investitore prende il sopravvento su quella razionale, nella finanza comportamentale, questa reazione viene definita avversione alla perdita, per una pianificazione finanziaria è utile entrare gradualmente sui mercati, possibilità offerta dai piani di accumulo del capitale, PAC, programmi che prevedono un investimento iniziale e una serie di rate periodiche diluite nel tempo, scopri i vantaggi di questo strumento, focus picte, Luca Chiarella, sales director picte emitalia 04 pianificare con la previdenza complementare, ecco i vantaggi in Italia, l'aumento delle aspettative di vita e il basso tasso di natalità portano ad un costante invecchiamento della popolazione, questa tendenza mette sotto pressione il sistema pensionistico pubblico e in particolare il rapporto tra la prima rata della pensione e l'ultimo reddito da lavoro percepito, che oggi è in media solamente del 70% per mantenere lo stesso tenore di vita è dunque necessario integrare la pensione, una soluzione in questa direzione è la previdenza complementare, strumento che consente di effettuare un'adeguata pianificazione finanziaria, capitalizzando i propri risparmi nel tempo a partire anche da piccoli importi, tra i suoi principali vantaggi ci sono i benefici fiscali e il rendimento, scopri tutti i dettagli nel video, focus picte, maria grazia bevi l'acqua, operating manager picte emitalia 05 che tipologia di investitore 6, ecco caratteristiche e obiettivi prima di iniziare ad investire, esistono alcune regole fondamentali da seguire che fanno la differenza tra avere successo o meno nella gestione del risparmio, la prima è scegliere un consulente finanziario o un private banker, la seconda è pianificare, ovvero definire degli obiettivi legati al risparmio, infine, è importante capire che tipologia di investitori siamo, esistono infatti categorie di investitori con tratti distintivi molto chiari e sapere a quale di queste apparteniamo aiuta a correggere alcuni errori che per natura rischiamo di commettere, dai capi famiglia agli innovatori, che tipologia di investitore sei, scopri di più nel video, focus picte, Andrea Picci, sales director picte emitalia 06 pac, uno strumento di integrazione previdenziale i fondi comuni di investimento possono svolgere diverse funzioni nella gestione delle finanze personali, una delle più importanti è sicuramente l'utilizzo a scopi previdenziali, nel nostro ordinamento sono presenti tre pilastri che godono di un trattamento fiscale agevolato, la previdenza pubblica obbligatoria, i fondi pensione di categoria e la previdenza integrativa individuale, queste soluzioni comportano però la rinuncia ad un certo grado di flessibilità e di libertà, un modo per ovviare a queste problematiche è quello di integrare la pensione ricorrendo ai piani di accumulo del capitale, PAC, strumenti, che consentono di investire con regolarità e gradualità sui mercati finanziari, sottoscrivendo quote di fondi di investimento, i PAC non offrono vantaggi fiscali ma operativi e presentano la flessibilità ottimale per la gestione dei propri risparmi, rispondono inoltre a uno dei principali dubbi degli investitori, ovvero quando è il momento di entrare sui mercati, soprattutto se l'obiettivo è quello di investire il risparmio a scopo previdenziale, la risposta corretta è investire poco alla volta, scopri tutti i dettagli nel video, focus picte, Antonio Poggialini, sales director picte emitalia 07 liquidità sul conto corrente, quali problemi comporta secondo i dati oxe, le famiglie italiane detengono il 33% delle proprie attività finanziarie in depositi o in valuta, una percentuale di gran lunga superiore ad altri paesi, come ad esempio gli USA, sui conti correnti degli italiani già c'è quindi un fiume di liquidità, soprattutto a seguito della pandemia che ci ha spinto a risparmiare più che in passato, questi depositi vanno incontro ad una serie di costi e rischi, innanzitutto, i tassi negativi e la conseguente erosione dei ricavi delle banche stanno portando gli istituti di credito ad aumentare i costi della liquidità depositata sui conti, a questo si aggiunge il costo di un opportunità di investimento mancata. Un report della Consob del 2020 ha rilevato che il 60% degli italiani è avverso al rischio e solo il 33% delle famiglie partecipa ai mercati finanziari. 6 italiani su 10, inoltre, accantonano risparmi senza un obiettivo preciso. Gli sforzi per accrescere il livello di educazione finanziaria devono essere dunque incrementati. Scopri di più nel video. Focus PICTE, Luca Chiarella, Sales Director PICTE emitalia 08 Una vita più lunga? Cosa comporta il rischio di longevità? I progressi della tecnologia e della medicina, uniti a stili di vita più sani, hanno aumentato enormemente l'aspettativa di vita delle persone. Vivere più a lungo è senza dubbio un fattore positivo ma può rappresentare un rischio sia per il sistema economico sia a livello individuale. Si tratta del cosiddetto rischio di longevità, ovvero la possibilità di avere uno squilibrio di natura finanziaria causato della discrepanza tra previsioni e realtà in termini di aspettativa di vita. In questo scenario, è di fondamentale importanza ricorrere a un'attenta pianificazione finanziaria, avvalendosi dell'aiuto degli specialisti, degli investimenti ed strumenti come i piani di accumulo del capitale. Scopri tutti i dettagli nel video. Focus PICTE, Daniele Camilli, Head of Marketing PICTE emitalia 09 L'educazione finanziaria in Italia, perché è importante e quali sono le iniziative in campo. Un'educazione finanziaria adeguata aiuta a comprendere meglio rischi e opportunità legate alle proprie scelte finanziarie. Una mancanza di questa cultura, al contrario, ha dei risvolti che impattano sugli individui, sulla comunità e sulle tendenze socio-economiche di un intero paese. L'Italia occupa il penultimo posto tra i 26 paesi OXE per livello di alfabetizzazione finanziaria. Secondo una ricerca di Banca d'Italia, le variabili che più influenzano il livello delle competenze in questo campo sono l'età e, in particolare, il livello di istruzione. Dall'attivazione di progetti nelle scuole all'introduzione del mese dell'educazione finanziaria, che dal 2018 cade ogni anno ad ottobre, molte sono le iniziative per affrontare questa problematica. Rimandare la promozione dell'educazione finanziaria non infatti è più possibile. Rendere il risparmiatore consapevole è il primo passo per sostenere la crescita del nostro paese, rendendolo più resiliente in caso di eventuali crisi future. Scopri di più nel video. Focus PICTE, Tiziana Mancino, Event Manager PICTE e Mitalia 10 banche corrispondenti, cosa sono e qual è il loro ruolo? 1 Fondi comuni di investimento rappresentano soluzioni efficienti per coloro che desiderano investire i propri risparmi. Chi sottoscrive le quote di un fondo si rivolge ad un intermediario che lo accompagna nelle proprie scelte, come i consulenti finanziari e reti bancarie. All'interno della catena di distribuzione dei fondi operano attori molto importanti e talvolta poco conosciuti, ovvero le banche corrispondenti. Questi soggetti si occupano dell'esecuzione degli ordini di compravendita delle quote dei fondi, fungono da sostituiti d'imposta e svolgono un ruolo chiave in molte attività di natura amministrativa. Scopri tutti i dettagli nel video. Focus PICTE, Carla Maienza, Client Servicing and Sales Support Manager PICTE e Mitalia 11 il concetto di rischio spiegato in 3 minuti. Il rischio è un concetto probabilistico. Si riferisce infatti alla probabilità che in futuro si verifichi un evento capace di causare un danno a persone, cose e patrimonio immobiliare. Per determinarlo si utilizzano due parametri chiave, la frequenza e l'impatto. Più sono alti la frequenza e l'impatto di un evento, più crescerà il danno potenziale, ossia il rischio complessivo. I risparmi e gli investimenti sono soggetti a rischi finanziari come il rischio specifico, legato al singolo emittente e alla sua attività economica, e il rischio sistematico, che si riferisce all'intero mercato e influenza i prezzi di tutti i titoli. Altri rischi sono dovuti alla liquidità degli strumenti finanziari e alla valuta in cui sono denominati. Poiché in finanza il rendimento presuppone sempre il concetto di rischio, bisogna essere consapevoli di quanta perdita potenziale. Siamo disposti a sopportare per raggiungere i nostri obiettivi nel tempo. Focus PICTE, Stefano Colucci, Risk Manager PICTE in Italia 12 Diversificazione, qual è il suo ruolo e perché è importante per gli investimenti in qualsiasi investimento. Per ottenere un rendimento bisogna assumere dei rischi. Più rischioso sarà l'investimento e più sarà alto il guadagno potenziale. Per ridurre questi rischi è fondamentale diversificare il proprio portafoglio, ripartendo il capitale in una varietà di investimenti e riducendo quindi la possibilità che tutti portino contemporaneamente ad una perdita. Prendendo in considerazione il concetto di correlazione, che misura quanto due investimenti tendono a muoversi insieme, si può dire che per costruire un portafoglio ben diversificato vanno ricercate attività finanziarie non correlate positivamente, con andamenti slegati opposti e non dipendenti tra di loro. Seguendo questa regola, il portafoglio ottenuto sarà più stabile nel tempo e in grado di sopportare meglio eventuali ribassi. Scopri tutti i dettagli nel video. Focus PICTE, Stefano Colucci, Risk Manager PICTE e Mitalia 13 Cosè un cigno nero, un focus sul Covid-19 e l'espressione cigno nero risale al XVI secolo e veniva utilizzata per indicare un fatto impossibile o altamente improbabile. Fino ad allora, infatti, tutti i cigni conosciuti erano bianchi. Con la scoperta dell'esistenza dei cigni di colore diverso si è capito che l'osservazione dei dati passati non permette di escludere che in futuro possano accadere eventi mai visti prima. La teoria moderna del cigno nero in ambito economico-finanziario è stata definita dal matematico Nassim Nicholas Taleb, il quale individuò le tre caratteristiche fondamentali di questo fenomeno, rarità e imprevedibilità, forte impatto e lavoro sulle giustificazioni a posteriori. Un esempio è il lunedì nero di Wall Street del 1987 oppure l'attacco alle torri gemelle del 2001. In molti considerano il Covid-19 come un cigno nero, ma secondo Taleb manca la caratteristica essenziale dell'imprevedibilità per definirlo tale. Scopri tutti i dettagli nel video. Focus Picte, Cristiana Villa, Marketing Specialist Picte e Mitalia 14 La sicurezza di investire in SICAV Le SICAV sono società di investimento a capitale variabile. Sottoscrivendo un fondo comune di investimento si acquistano quote di una SICAV. Intraprendere un investimento di questo genere è una scelta particolarmente sicura e mette l'investitore al riparo da eventi estremi. Il patrimonio della SICAV resta sempre di proprietà degli investitori ed è quindi totalmente segregato rispetto a quello della banca, depositaria e della società di gestione. Il fallimento della SICAV è inoltre un'eventualità sostanzialmente impossibile. Scopri tutti i dettagli nel video. Focus Picte, Carla Maienza, Client Servicing and Sales Support Manager Picte e Mitalia 15 Educazione finanziaria. Da dove partire? L'alfabetizzazione finanziaria è un punto di debolezza per il nostro paese. Solo un italiano su tre conosce i tre concetti fondamentali per la gestione delle proprie finanze, tassi di interesse, inflazione e diversificazione del rischio. L'Italia, infatti, è 25 gradi su 26 nella classifica dell'educazione finanziaria fra i paesi aderenti all'indagine OXE, OECD-INFE 2020. International Survey of and Health Financial Literacy. Sicuramente, utilizzare i mezzi più funzionali, scegliere le fonti più affidabili e assumere un approccio laterale, partendo da temi di attualità che ci interessano e riguardano anziché dalle fredde nozioni, può aiutare a intraprendere un percorso di formazione. Prendersi cura delle proprie finanze è un passo importante, non solo per il benessere economico, ma anche per quello mentale e sociale. Scopri nel video i nostri consigli per farlo. Focus PICTE, Daniele Camilli, Head of Marketing PICTE e Mitalia 16 perché investire e cosa si rischia, a non farlo, quando si inizia. Ad avere a disposizione sul proprio conto corrente una certa liquidità ci si chiede spesso se, al netto di spese necessarie e sfizi, sia bene investire una parte del proprio capitale. La risposta è sì. Infatti, investire il proprio denaro permette, non solo di ottenere nel tempo potenziali guadagni, ma anche di evitare perdite dettate dall'erosione e dalla diminuzione del potere d'acquisto, legata all'inflazione alta. Naturalmente, il piano di investimento deve essere personalizzato sulla base delle esigenze del singolo. Scopri nel video le quattro ragioni principali per cui dovresti investire. Focus PICTE, Flora Daishnika, Product Specialist Multiasset e AMP, Quantitative Investment PICTE e Mitalia 17. Cosa fa un asset manager? Asset management è un termine inglese che indica l'amministrazione dei beni, mobiliari o immobiliari, di investitori al dettaglio, istituzioni o aziende. L'asset manager è il soggetto che dà forma agli investimenti, definendo lo stile di gestione e la composizione del portafoglio di attività più coerenti con gli obiettivi e il profilo del cliente. Al fine di ottimizzare il rendimento del patrimonio, moderando al contempo il rischio di perdita, una delle principali strategie messe. In atto sarà la diversificazione delle attività in portafoglio. Guarda il video per approfondire il ruolo dell'asset manager e scoprire perché è fondamentale diversificare il proprio portafoglio. Focus PICTE, Carla Maienza, Client Servicing and Sales Support Manager PICTE e Mitalia 18. Cosa sono i bias comportamentali? Molti degli errori che commettiamo hanno come imputato principale la nostra mente, che, cercando scorciatoie, può indurci a prendere decisioni poco lungimiranti. Lo stesso accade quando ci muoviamo sui mercati finanziari, mettendo in atto comportamenti erronei che si possono comunemente suddividere. In due macro-categorie, bias cognitivi e bias emozionali. I primi sono legati a modelli di pensiero derivanti dall'elaborazione erronea di informazioni e spesso hanno come denominatore comune la fretta. I bias emozionali si basano invece su desideri e paure e sono legati alla sfera delle emozioni che, anche in questo caso, vanno a distorcere il processo decisionale. Scopri nel video quali sono i bias più comuni e in che modo è possibile evitarli. Focus PICTE, Gloria Grigolon, Investment Specialist PICTE e Mitalia 19. I principali indici finanziari Un indice finanziario è una sintesi rappresentativa di uno o più mercati, utile a misurare le variazioni di valore nel tempo. Composto da un paniere di titoli destinati a replicare una determinata area del mercato, il compito di un indice è dare una lettura di come si sta muovendo il mercato e assolvere alla funzione di benchmark, ovvero di punto di riferimento per la valutazione della performance di un portafoglio di investimento rispetto a un paniere di attività comparabili. Fondamentalmente sul mercato esistono due strategie di investimento, quelle attive, che mirano a sovra per formare l'indice di riferimento, e quelle passive o indicizzate che lo replicano fedelmente. Tendenzialmente, quando si parla di indici, si fa riferimento a quelli azionari, per la loro capacità di aggregare tante informazioni afferenti ad aziende, settori e mercati diversi. Esistono, però, anche indici utilizzati per misurare il valore di sezioni più o meno ampie dei mercati obbligazionari. Guarda il video per scoprire di più su cos'è un indice e quali sono i principali indici del mondo. Focus PICTE, Fabio Castaldi, Senior Investment Manager Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza. Presidenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S.A. 6B, Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict.è nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management PICTE Asset Management